Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo tutorial vi spiego come risolvere l'errore sul Microsoft Store che hai problemi a scaricare quindi ti esce questo tipo di errore del Fix Store Error 0x8024 0024 e ovviamente per risolvere questo errore vanno fatti alcuni procedimenti sul prompt dei comandi quindi in questo caso se noi andiamo un attimo ad aprire cmd come amministratore, segui come amministratore il prompt dei comandi e andiamo a scrivere ipconfig spazio slash flush dns configurazione p di windows cache del resolver dns svuotata e una volta fatto andiamo a mettere quest'altro comando che lo troverai in descrizione netsh winsock reset e fai invio reimpostazione catalogo winsock completata è necessario riavviare il computer per completare l'operazione quindi tu fai exit chiudi il prompt dei comandi e vai a riavviare il tuo sistema operativo e vedere se io posso scaricare qualcosa su Microsoft Store oppure se si è risolto il problema del programma quindi in questo caso io adesso vado a installare qualche, che ne so, un'applicazione facciamo che installiamo netflix quindi utili netflix sospeso avvio download in corso sta scaricando l'applicazione e abbiamo installato il programma senza nessun problema e senza nessun errore quindi per altri problemi commenta sotto al video tutto in descrizione per i comandi sul prompt dei comandi mi raccomando aprilo come cmd e poi una volta fatto riavvia il sistema operativo quindi in questo caso grazie a tutti per questa visione iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao